Bufera dentro a Lazzo. C'è un'indagine interna dopo l'uscita della graduatoria degli studenti aventi diritto all'alloggio pubblicata per errore e subito cancellata dal sito. Nei prossimi giorni uscirà il bando per 160 posti letto, di cui 100 nella cittadella in Nianti Carischi e 60 nella residenza in centro. Ma intanto l'errore è giudicato gravissimo e Lazzo nei giorni scorsi ha revocato pure l'incarico al direttore, l'avvocato Paola Di Salvatore. La presidente del CdA Eliana Morgante non ha usato mezzi termini e ha precisato che l'organo di indirizzo politico non è responsabile. Una diatriba che però attanaglia da tempo Lazzo e che potrebbe essere anche politica, la presidente Morgante è in quota lega. Ovviamente l'elenco dei beneficiari subito cancellato non ha validità. Lazzo prende le distanze dal gravissimo errore commesso dalla struttura burocratica, dicono apicale dell'ente, che agisce però in modo autonomo. Ma questa vicenda avrà degli strascichi. C'è l'indagine interna per capire le responsabilità di questo errore. I responsabili verranno puniti, la presidente è stata perentoria. Il problema però sarà risolto a stretto giro. Già nei giorni scorsi la Morgante aveva dovuto pubblicamente comunicare che per una disfunzione tecnico-amministrativa, anche in quel caso causata da chiari errori dell'apparato burocratico, non erano stati pagati saldi relativi alle borse di studio, questione che sarà risolta a breve. Nei giorni scorsi quindi l'incarico alla di Salvatore è stato revocato e nei prossimi giorni sarà nominato il sostituto. La regione intanto ha designato come componente del CDA l'avvocato Gianluca Cervale, che va a sostituire Sara Cecala, anche lei avvocato di missionaria.